Al Teatro Brancaccio di Roma arriva il musical e tutti parlano di gemi con Giancarlo Commare. Un musical di riscatto e libertà. Tutti parlano di gemi, al Teatro Brancaccio di Roma è la trasposizione italiana dello spettacolo inglese che racconta la storia vera di Jamie Campbell, un adolescente che insegue un sogno, essere libero di esprimere se stesso anche attraverso abiti femminili. Hai capito! Il protagonista è Giancarlo Commare, l'adattamento e la regia sono di Piero Di Blasio. Oggi mi sento abbastanza carico e pronto per salire su quel palco. C'era un'energia fisica notevole. Abbastanza, ho anche smesso di fumare grazie a questo musical perché se no ne la facevo. Io mi aspetto che succeda questo tutte le sere, soprattutto che la gente uscendo da qui possa dire non è vero che tu sei diverso, ma è vero che sei speciale. A benedire l'adattamento italiano della sua storia, Jamie Campbell in persona. In bacca al lupo, especially Giancarlo! A benedire l'adattamento italiano della sua storia!